Maledetti orchi, la testa di un Krampus appesa a un pennone, non dovevano, mai quest'onta fu fatta, mai, mai il loro sangue, i loro membros membrate, i loro corpi viscerati perdoneranno tanto a dire, su quella torre io sarò a mozzare le teste e su quella pennone appenderò la testa di Gandahar. Lì piangeranno le loro donne, i loro figli che invocheranno il perdono, ma mai un orco, un gobino, un uomo potrà più scendere vivo da quel monte!